Troviamo nei monasteri antichi custodi di saggezza del Tibet, Bolivia, Peru, Nepal, India. Troviamo in questi monasteri la conoscenza del cuore umano e la regola di comunicare con il mondo tramite il linguaggio del cuore piuttosto che con il pensiero razionale. Questa è la cosa più difficile da accettare per la civiltà moderna perché siamo una civiltà molto logica, ma è una regola potente perché scopriamo nei villaggi delle montagne andine o nei monasteri dei monti peruviani e tibetani che le persone non conoscono la scienza ma sanno come curare il corpo ed essere longevi. Abbiamo conosciuto persone di 120 anni nel 2005 che erano sane, forti e vitali e chiedevo loro quando fate le guarigioni cosa fate all'interno del corpo per riuscirci. Vivere fino a 115 o 120 anni ed avere un corpo forte, sano e vitale è una cosa molto lontana da quello che vediamo in Occidente. A tutti chiedevo, come ci riuscite? Cosa fate? E la risposta era sempre la stessa. Dicevano, non lo pensiamo con la mente, lo sentiamo con il cuore. Oggi la scienza ci dice che i nostri cuori parlano un linguaggio, fatto di sentimenti, emozioni e fede e che proprio questo linguaggio dà le istruzioni ai nostri organi e agli atomi che compongono il nostro mondo. Noi letteralmente, letteralmente possiamo modificare gli atomi dello spazio circostante per mostrare ciò che proviamo. Se proviamo il sentimento di guarigione per i nostri cari, la scienza dimostra che loro ne traggono effettivamente vantaggio e potrebbero guarire. E quando proviamo il sentimento di pace nel cuore, la scienza dimostra che la pace avviene non solo nella nostra casa, ma anche nella nostra città, semplicemente provando sentimenti di pace. E' vero che molte persone nel mondo moderno iniziano solo ora a conoscere questi argomenti di cui parlo, come è vero che questo è un modo radicalmente diverso di pensare al nostro mondo, sicuramente diverso da ciò che mi insegnavano a pensare da scienziato. Quello che sappiamo, i fatti, sono che dobbiamo affrontare le più grandi sfide mai affrontate nella storia. E questo è un fatto. E' che la maggior parte della nostra storia è basato su due falsità, due false credenze sul nostro mondo. La prima falsità è che ogni cosa è separata dalle altre. Ora sappiamo che assolutamente non è così. C'è un campo energetico, una matrice divina che collega tutto. La seconda falsa credenza è che noi non abbiamo un effetto sul mondo. Ma non è così. Sappiamo che le nostre esperienze interne di pensiero, sentimento, emozione e credenza hanno un effetto diretto sul mondo circostante, attraverso questo stesso campo energetico. La matrice divina è il canale che porta le nostre esperienze fuori dal mondo circostante. Questi due fatti, il fatto che tutto è collegato e il fatto che influenziamo la realtà, cambiano tutto. Cambiano 300 anni di pensiero riguardo il nostro mondo. Il mondo moderno inizia solo ora a capirlo. Uno dei modi in cui questa credenza verrà rapidamente modificata è tramite un progetto di cui vi voglio parlare. È una cosa nuovissima. È un progetto scientifico molto entusiasmante.